ciao e benvenuto in un nuovo video allora spero che si senta e si veda tutto questo è l'upgrade in teoria della stanzetta che ho su che non potete vedere lì non potete immaginare la confusione che ci potrebbe essere intanto stendino ma comunque le luci le portate tutte su sì l'unico upgrade è stata questa tenda perché così evitiamo il riflesso bruttissima bruttissima perché si vede da un lato e dall'altro alla fine bruttissima lo so ma per oggi prendiamocela così e anche per questi video perché io ho cercato di fare i video fuori perché ancora la temperatura e si sta bene perché ad esempio in casa io qua ho le maniche tirate su ma appena accesate le camera sono partiti camion e le motoseghe e le gente che passa cani che passano quindi scusate mai facciamo in casa ecco può nervosina veramente ma ci riprendiamo subito perché iniziamo con i calendari dell'avvento ebbene sì allora quest'anno ho cercato calendari dell'avvento un po' particolari o che comunque non erano super visibili online il primo che vi mostro è questo della blissim che è è un marchio francese che conosciuto conoscevamo già come birk box perché faceva delle boxe e periodiche sempre francesi è cambiato il marchio è diventato blissim e si può reperire proprio dal marchio blissim che spedisce dalla francia c'è la spedizione però comunque sia spedisce senza dogana ovviamente fa anche le box mensili ma non so se sono in italia sì 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 perché comunque fa parte dell'europa e ci siamo ma quello che vi mostro oggi è calendario dell'avvento mi dovrò bloccare ogni tanto perché il calendario mi è stato inviato quindi tanto li ringrazio ed è per creare altri contenuti quindi dovrò fare contenuti nel mentre per loro e voglio però spacchettarlo con voi in un video perché lo abbiamo sempre fatto allora forse il caso che tolgo questo che è lo spoiler ma dietro c'è proprio lo spoiler spoiler che vabbè comunque sia è un calendario da lo apriamo così togliamo questa ecco togliamo questa così vedete solamente il marchio blissim è un calendario da 24 caselle molto bello molto carino ok che si apre così ed ecco qui è tutto a caselline quindi lo apriremo assieme da qui mi sono affidata al fedele scatolo perché così possiamo appoggiarlo speriamo che sia abbastanza fisso ok allora vi anticipo già un attimo che ci saranno delle caselle particolari quindi no non è che sono particolari sono diverse questo è quello per influencer o comunque che mandano in PR PR come volete per i contenuti uguale a quello che si acquista ma con qualche differenza proprio devono essere tre le caselle differenti quindi se volete una sorpresa in più le ho acquistate direttamente dal sito blissim e avrete tre sorprese in più che qui non vedrete se no è reperibile perché su blissim costa 65 euro più 6,90 di spedizione fate voi i calcoli mentre c'è anche su amazon che è quello che mi hanno inviato e viene 69 euro spedito decidete voi ma io adesso basta parlare e direi di aprire il calendario però devo dirvi come sempre una cosa molto particolare intanto se non volete vedere gli spoiler perché volete il calendario ma volete comunque avere le mie impressioni dunque a questo minutaggio qui non vi farò spoiler quindi se ho degli swatch e tolgo tutto non vedrete niente però vi dico le mie impressioni sul calendario se vi può piacere e cosa in più mi ha fatto anche l'anno scorso e l'avevate apprezzato quindi ok io direi di partire con la numero uno eccola qui cerco di andare più veloce possibile se no ho il vago sospetto che tra poco sdraierò il calendario le caselle sono fatte così belle con il pavone proprio senza carta senza niente ma ok ok già ci piace polar nuit polaire crema rivitalizzante vediamo sempre la quantità perché come sapete come vi dico sempre fino a 5 ml è un campione omaggio di più è una mini taglia se poi non c'è scritto neanche niente è ancora meglio allora 15 ml quindi è una mini size quindi ha un valore e le numero dirò ogni volta fin da 5 ml è un campioncino di più è una travel size mini size comunque sia che ha un valore effettivo allora è una crema da notte e da polar è un marchio valido e questa crema sono sinceramente curiosa di provarla perché il marchio lo conoscevo e mi è piaciuto mettiamo qui non so dove metterlo bene perché dopo in teoria dovrei togliere tutto ci penso intanto ok andiamo avanti due la due e questo comunque è calendario molto carino e sono numeri sono belli grandi l'unica mia paura è che ecco dopo un po' cadranno la due sempre senza carta senza niente però c'è questa cartina e lui è chiuso ok soffi più ma belle ok che non so che marchio sia extreme old brown gel o ci piace e la quantità la quantità non è data a saperla ok allora ci sarebbe sinceramente ma la leggete bianca su fondo rosa ecco apportate pazienza è un trasparente ok i brown gel ci piacciono sempre e quindi anche questo mi sembra un prodottino valido anche se non li mettesse via ogni volta sarebbe meglio 3 e tengo le cartone tengo le scatole perché a un certo punto non mi ricordano più il numero 3 eccola qua scusatemi a questo punto devo sdraiare perché ho paura che cada tutto 3 ok olio di ricino bio extra pressato a freddo bior la biorganic foglio di ricino ed abbastanza utile per tutto bio extra questo è un quantità 50 ml ottimo per unghie capelli quando avete finito il brown gel potete usarlo anche per le sopracciglia la quantità è buona il vasetto è in plastica ma scura ok ci sto andiamo avanti con la 4 che bella grande ok respire gel crema idratante crema idratante per pelle da normale a miste 50 ml la respira la conoscevo per i deodoranti che non mi piacciono magari la crema ci può piacere di più tanto questa la provo quindi allora è leggera ma idratante io la userei tanto è una bella size poi la userei sinceramente è per il viso sì ok alla mattina se non vi toccate perché un po è ancora qua presente sulla pelle oppure alla sera aspettate però si sta assorbendo ci vuole un attimo di pazienza però e mi piace ha un leggerissimo profumo iniziamo a mettere questa roba e andiamo alla 5 non vi dico il casino che avrò qui ma ci piace scusatemi ma questi pavoni io li adoro 5 ok vi dico subito con 10 ml non cos'è il paio è un buon marchio olio struccante proprio olio olio struccante è proprio un olio anche con un buon perfumo ok andiamo avanti con la 6 eccoci qua rituals rituals all ging body cream da 70 ml quindi anche bella grande rituals mi piace tantissimo per il profumo per il profumo che mi piace sempre molto e ero indecisa se acquistare il calendario dell'avvento quest'anno o no ma alla fine non l'ho acquistato spoiler non l'ho acquistato perché ed è alla fine l'avevo provato anni fa i prodotti sono simili molto simili ed è detto ma aspettiamo un attimo perché già questo me l'hanno inviato ne ho degli altri che mi hanno inviato aspettiamo vedere se per caso me lo mandano oppure se ne arriveranno altri interessanti perché la rituals comunque un po la conosce tutti o si può vedere online i vari spoiler 7 e leggerina e abbiamo imperfect siero contorno occhi per uno sguardo luminoso 15 ml è questo non vi ho detto ma tutti questi prodotti sono vegan e cruelty free però queste luci mi stanno piacendo ho un accrocchio di luci qua che soprattutto con questi meravigliosi aumenti energetici non so fino a che punto ma comunque sono tutte lampade a led bello bello assorbe velocemente bello mi piace molto e andiamo alla 8 io sto andando veloce poi dopo ecco allora nella 8 abbiamo il primo prodotto make up che è all tiger vegan natural original è un ombretto del colore 310 copper ok ve lo faccio vedere questo qui bello il packaging sinceramente quantità 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 se dico un'altra volta quantità ragazzi ma non c'è scritto la quantità c'è inutile che sto qua a leggere e dice che è vegan cruelty free eccetera eccetera va bene ok è questo qui bello molto bello guardate molto bello adesso vediamo anche come si comporta si sfuma si sfuma ma restando comunque luminoso mi sono già premonita di salviettine e quindi trovo che sia perfetto come base per un altro ombretto oppure soprattutto questi che abbiamo oro con i glitter quindi un po' aggrappano anche oppure da solo ne applicate molto meno di come ho fatto io sulla mano e poi dopo le sfumate e siete già a posto con un po' di colore iniziamo a togliere un po' e andiamo alla 9 9 ecco dove sarà la 9 eccola qui anche questa bella grande e cosa abbiamo qui momo mai sentito shampoo idratante per capelli secchi risidratati 75 ml e questo qui apriamolo per sentire se ha un profumo si è fresco è un profumo fresco mi piace attualmente mi piace molto piccolo passaggio la mia maglietta con chip e chop mi piace ecco ed è no beh quindi adesso andiamo alla 10 scusatemi ma devo mostrarvela alle orecchiette basta basta andiamo alla 10 10 uh un balsamo labbra della e balsamo labbra mongongo lip conditioner con mandarino verde mandarin green orange e ginger quindi mandarino verde arancia e zenzero ginger zenzero questo è chiuso ma adesso lo apriamo subito anti age organic cosa fa? sarà idratante? andiamo ad aprirlo io mai che mi munisco di fatto così sa di mandarino e arancia davvero buono buono e non lucido oh mi piace penso che sia un full size credo ma perché non ci mettono mai la la come si dice l'olio di mangongo contiene calcio magnesio e zinco io non trovo la quantità ragazzi come sempre ma non è che non la trovo è che talmente è scritto piccolo che che non ci riesco a leggerla comunque mi sembra un balsamo full size ce ne ho altri di questa misura 11 tornando veloce se no i video diventano lunghissimi ok è un oglietto della garanzia l'appel della forest il richiamo della foresta l'appel della foresta double serum eclate quindi un siroviso ah aspettate è bifasico ok beh direi che nutriente idratante tutto quanto che immagino che si scecchera molto oleoso perché sta girando per la mano anche un po' luminosino ok però assorbe abbastanza velocemente ok questo qui con booster di vitamina c sapete che questo adesso no ma verso più freddo comunque sia è un buon prodotto cioè un buon prodotto può essere bello idratante e poi ho il booster sinceramente di uso anche ad esempio dopo le maschere ecco questa è la 12 quindi andiamo alla 12 sono brava quest'anno sto andando velocemente mica tanto visto il tempo ok ok ultra ripari cream della first beauty fab crema ultra riparatrice da 28,3 grammi per pelli sensibili e secche questo che immagino che sia ultra idratante vediamo o è molto ricca è molto ricca è molto ricca però ci sta e andiamo verso un periodo freddo quindi una crema ricca anche se abbiamo la pelle mista o grassa ci sta perché comunque soprattutto alla sera anche per riparare ma anche solamente nel contorno occhi occhi nel contorno del naso che si screpolera sicuramente ci servono sempre per adesso non ho trovato niente di che non mi piaccia ovviamente in un calendario dell'avvento io devo trovare scusate questa è la 13 intanto un prodotto rosso o un prodotto che richiama natale 13 voilà crema mani idratante da 40 ml questo è uno dei pochi prodotti che ha il sigillo alla faccia dell'idratante è super super ricca super super ricca però un po' di crema mani ci serve sempre quindi ce la diamo un pochino perché un po' di crema mani ci serve sempre eccoci qua allora perfumo molto neutro 14 aspettate 15 14 bella grande ok questa cos'è baigia tropical shot espogliante polvere espogliante corpo ma con co co caffè e olio di ricino ma sinceramente non mi sembra aspettate faccio vedere espogliante polvere di gommaggio sì sarebbe la compatta perché io qua non sento della polvere mi sembra quasi in tessuto per il corpo utilissima anche questa per ora 20 grammi io non so i prezzi ma sono tutte cose che mi piace anche da provare perché per adesso non ho trovato neanche un prodotto che fosse l'olio che farà un uso un po' diverso però mi piace ah sì è una polvere 15 la 15 è bella grande e cosa abbiamo dentro luna radiant sleeping night oil ok bella che ha la confezione peccato che io non ho le forbici con me quindi distruggerò la confezione quindi un olio da notte 5 ml quindi stavo leggendo non c'è scritto che non è destinato alla vendita ma tutta questa bella confezione e sappiamo che 5 ml è un campioncino scusatemi vado a distruggere la confezione allora tutta questa bella confezione qui e prodotto è questo qui allora sarà un marchio super costoso non lo so sarà che questa è l'unica casellina per adesso che non mi piace sleeping night oil è blu è blu è blu è blu è blu ha un profumo erboreo o erbaceo non so come si dice cosa contiene olio olio no non riesco a leggere che cosa c'è scritto comunque è un campioncino immagino che sia un marchio me lo auguro costoso questa è a 15 scusate mi tolgo un po' inizio togliami un po' di oli dalle mani ok andiamo alla 16 qui il calendario sta calando ok ok l'usetta tea tree el hemp oil body wash 30 ml un gel doccia per il corpo alle tea tree e olio di canapa chiuso lo apriamo per il profumo erboreo ma delicatissimo ok quindi un olio da doccia andiamo alla 17 il prodotto natalizia natalizia però adesso non l'ho trovato scatola enorme per un pottino l'epetit prodige speriamo che davvero faccia prodigi 100% naturale balsamo multiuso non dice la quantità non sa di niente e non dice la quantità forse non mi piace che non dica la quantità e che non spiega neanche nulla basta un multiuso ai fiori di cotone è un piccolo pottino ok sinceramente questo prodotto visto così io lo userei per le labbra screpolate il naso screpolato e le punte dei capelli screpolati ma anche talloni ed gomiti ecco un prodottino si è effettivamente multiuso però ci sta in tempo non vi dico il casino che c'è qua sotto fateci caso 18 ok glim mai sentita look at that glove quindi qualcosa che illumina siero illuminante da 25 ml siero illuminante per il viso sì 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 è un siero in gel allora questo qui e questo è il prodotto è proprio un gel siero illuminante ad azione illuminante quindi cos'ha rinkt in serum di origine naturale ok acido diarmonico e vitamina C ok ci piace mi piace davvero questi prodotti per il viso mi piacciono spero che in un calendario a questo punto che c'è poco make up mandiamo la 19 piccina immagino che anche questa sia un 5 ml 5 ml quindi campioncino le concentrate ialuronic acido ialuronico concentrato del uigens ok molto concentrato però da provare ecco sì è vero vi durerà una vita però avrei preferito qualcosa di più di un 5 ml già se la facevate un 6 non era più un campioncino questa cosa prima casellina con il 2 davanti la 20 la 20 ok crema blush pullen colorate and cream pullen ah apiccia crema in bush blush blush in crema apiccia mai sentita quantità che noi siamo molto attaccati alla quantità non siamo attaccati alla quantità per capire se vale il prezzo anche perché costa non apprezzo i marchi che non dicono la quantità perché mi fa molto pensare che potrebbe esserci una confezione esterna e qui non l'hanno messa più che una crema questo è un gel in blush non mi piace non mi piace per un semplice motivo io la mano l'avevo pulita e asciutta e forse non messo tanto ma guardate non mi piace ma adesso dato che non sono così cattiva subito ci ripuliamo la mano da tutto aspettiamo qualche secondo che asciuga mescoliamo il prodotto ok è asciutto e lo riproviamo molto a meno stavolta no continua a lasciare non è uniforme non è uniforme non mi piace non mi piace sinceramente forse c'è un altro modo di usarlo forse con un pennello o una spugnetta non mi piace non è una crema è un gel olio ci sta una casella che non mi piace 21 andiamo avanti ecco qui abbiamo qualcosa già più interessante pom pom make up questo è un green mascara da 7 ml fa bene agli occhi ok fatto così con le setole fitte e in silicone questo lo proviamo perché sono curiosa 22 siamo quasi alla fine questa è pesante cosa abbiamo oh 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 bioderma crealin h2o occhi non mi viene la parola acqua micellare bifasica struccante anche per trucco waterproof 125 ml è proprio vabbè questa la teniamo chiusa perché non riesco ad aprirla comunque è uno struccante bifasico della bioderma questo ci sta ed è anche una bella quantità è un bifasico quindi ha la parte in olio adatta per il trucco guata il tutto apprezzata apprezzata ultime due caselle 23 e 24 23 meno 4 17 serenity longsend reaxing food nutricing crema nutriente rilassante per i piedi 30 ml e il marchio è questo ed anche i piedini effettivamente hanno bisogno di una bella crema soprattutto in questo periodo freddo è fresca ha una texture fresca il profumo è delicato sa proprio di crema ma la texture è fresca però è nutriente sapete che mi piace? sì mi piace anche con un piccolo massaggio sì 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 ci piace questa mi piace quindi mi piacciono queste caselle dove ci sono poche caselle che non mi sono piaciute mi pulisco bene per l'ultima casella e magari non c'entrerà niente non lo sappiamo ho 24 sarà make up o skin care voi cosa dite? io da qua non capisco niente mi si era spenta la telecamera ma ok allora ho solo aperto la scatola Codalie oltretutto in full size questa è in 40 ml è la Vina Source Idra crema sorbetto idratante quindi ok e mi piace questo tipo di crema perché è idratante ma allo stesso tempo leggera sulla pelle allora vediamo un po' eccoci qua bella bella come ultima casella che sia un full size e oltretutto adatta adatta a tutti bello bello mi piace bella bella casella sì 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 allora adesso mettiamo via tutto ci puliamo bene perché sapete che le dobbiamo fare le impressioni finali anche per chi come a differenza vostra non ha visto il video ok uno due tre ed eccoci qui allora se siete passati direttamente a questa parte perché non volevate spoiler non ve le faccio perché il calendario è completamente finito cosa dire del calendario intanto bellissimo il design molto bello molto bello elegante troviamo marchi interamente no però molti francesi alcuni conosciuti altri meno trovo che il prezzo di 69 euro sia un ottimo rapporto qualità prezzo soprattutto visti i prodotti che c'erano ed è il fatto che non ci fossero ed è no più che altro che ci fossero prodotti adatti a tutti ecco questo sì c'erano prodotti adatti a tutti soprattutto skin care alcuni per pelle secca alcuni per pelle miste grassa ed è c'era un po' giorno e notte poi abbiamo dei prodotti per i capelli prodotti per il corpo bagno doccia crema quindi c'è un po' di tutto di vari marchi mani piedi ho trovato prodotti molto validi allora taglie full size travel size secondo me due o tre che erano dei campioncini forse di marchi molto costosi ma devo dire che questi campioncini da 5 ml sono di palotti che durano davvero tanto caselle che non mi sono assolutamente piaciute una una ma potrebbe essere che non sono capaci di utilizzarlo quindi potrebbe essere allora mi è piaciuto sì tanto ed è assolutamente ve lo consiglio di prenderlo perché è un buon soprattutto se non avete tanto make up ecco il make up c'è davvero poche cose di make up però quelle poche cose sono adatte a tutte quindi prodotti inclusivi che non hanno bisogno di colorazioni e dei particolari gli utilizzi particolari pochi prodotti ma adatti a tutti i tipi e noi solitamente usiamo tutti quindi mi è piaciuto assolutamente e cosa dire di questo marchio intanto che avete visto tanti stop perché dovevo fare altri contenuti ma mi è piaciuto sarei curioso di sapere anche in quello vendita per le clienti finali non quindi quello per che hanno inviato che cosa contiene ma secondo me più o meno siamo lì hanno detto tre caselle diverse quindi non so se forse il 24 che è l'ultima potrebbe essere diversa non si sa mi piacerebbe saperlo ma non ve lo spoilerò di certo e niente io spero che con questo primo video del canale dell'avvento vi sia piaciuto vi è tenuto un po' di compagnia e fatemi sapere qui sotto che cosa ne pensate e io come sempre vi do appuntamento al prossimo video ciao